Penso che una riflessione, tornare sul tema, sia doveroso. Dopodiché anche loro credo che si misureranno con i problemi dei lavoratori e delle imprese. Io penso che il ragionamento e la discussione portano sempre a qualche suddito. Il metodo di lavoro è giusto anche in questo caso. Sono queste le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, in merito alla posizione dei Cinque Stelle sul decreto blocca-trivelle. OMSI, pronunciate all'inaugurazione di OMSI 2019 al Paladin d'Andrea di Ravenna, la fiera biennale delle estrazioni offshore del bacino mediterraneo che si chiude venerdì 29. 600 stand di cui 170 stranieri e circa 23.000 visitatori riconfermano il successo di una delle manifestazioni più importanti del settore. OMSI arriva in un momento difficile per l'oil and gas, però la presenza di tre rappresentanti del governo lascia buoni aspici. Sì, io penso anche alla presenza di tantissimi espositori, pubblico, partecipanti alle conferenze. È un segno di quanto sia vitale questo settore e di quanto il nostro territorio sia leader. Sarebbe un peccato distruggere questa eccellenza. Sarebbe un peccato distruggere questa eccellenza.